Marta Enderon, pronto, carico, determinato, al punto giusto come sempre? Sì, prontissimo, anche carico, recuperato dopo domenica, con tanta voglia di giocare, qua è una bellissima partita. Ti provo con un po', non sono purtroppo tante partite ravvicinate? A me piace molto, dopo l'anno scorso con tutte le settimane intere, dopo abbiamo lavorato anche pesante, mi piace giocare, giocare ogni tre giorni ti alleni meno, ti alleni giocando, giocare partite così credo che nessuno vuole cambiare con le settimane intere. Sporting Lismona-Atalanta, che partita sarà Marta? Una sfida interessante, con una squadra che è veloce, tecnica, però noi dobbiamo concentrare su noi stessi, noi abbiamo fiducia, soprattutto dopo l'ultima partita in campionato, in Coppa, che stiamo difendendo bene, però stiamo anche migliorando, noi dobbiamo fare la nostra partita qua, avere fiducia, coraggio, credo che possiamo fare male a tutti e noi dobbiamo avere la testa di provare a fare il risultato qua. E ci saranno circa mille tifosi atalantini al seguito che cercheranno di farsi sentire e sicuramente li sentirete. No, gli atalantini, i tifosi ci sono sempre, noi possiamo come ragazzi, come calciatori, essere molto contenti con il loro supporto, il loro sostegno che sono ovunque, pur sapendo i prezzi che erano all'inizio, però stavo parlando ieri con un tifoso che aveva pullman, poi treno, poi aereo e non so, faceva 30 ore di viaggio per arrivare qua e questo vuol dire tantissimo e questo sostegno dobbiamo premiare con il nostro risultato domani. Grazie a tutti.